Mezz'ora dopo, sempre sulla Milano-Roma, ancora 165 all'ora sulla sua potente macchina tedesca, 217 euro, altri 5 punti. L'8 agosto, quindi sempre mezz'ora dopo, alle 2.46, sulla Milano-Varese andava sempre a 161, altri 217 euro e sono 15 punti. Ecco, questo qui è il verbale di accertamento e questo qui lo riconoscete tutti perché è un bollettino, questo qui è il bollettino che tutti noi conosciamo bene, quanti di voi sono andati smoccolando alla posta per pagare la multa, la contravvenzione? Ecco, Renzo Bossi non ci andava, ci andava a Belsito, portava le multe della famiglia Bossi e fino a qua andava troppo veloce, va bene, ci andava al posto suo Belsito e va bene, il problema è che non le pagava di tasca sua, le pagava le multe con i soldi della Lega e di chi sono i soldi della Lega? Sono i soldi nostri, i soldi dei rimborsi elettorali. Ecco, credo che quel signore, quel leghista che a Bergamo ha sventolato una forca durante appunto il raduno bergamasco della Lega, credo che avesse proprio in mente quella contravvenzione. Oggi la Lega è travolta da uno scandalo incredibile ed è cominciata proprio con le espulsioni, la resa dei conti, Alessandro Sortino e Valentina Petrini. Le lacrime del padre e il SUV del figlio, pagato coi soldi del partito e lasciato sotto il pirellone per evitare i flash dei fotografi. Questa è la storia della fine della Lega per come l'abbiamo conosciuta fin qui. È martedì 10 aprile quando alla fiera di Bergamo arrivano i leghisti cosiddetti autoconvocati. E come si è sentito quando ha letto queste notizie? Tradito, tradito, dopo vent'anni quasi in militanza, tradito. La spada di Alberto Giugliano è questa. La ramazza. Questa è la ramazza. Il simbolo della giornata è la ramazza e le parole chiave sono queste, scritte sulla padania. Rabbia ed orgoglio. Orgoglio leghista. Orgoglio leghista perché? Perché qualcuno ha infangato la Lega. Ne aggiungiamo un'altra. Imbarazzo. Ma non vi accorgevate di niente? Quando Renzo Bossi arrivava con le macchinone non lo pensavate? Ma delle volte do la carta di credito a mia moglie e non sempre riesco a capire cosa spende. Voglio dire, Marroni ad esempio poteva non sapere da ministro dell'interno quello che succedeva? Assolutamente poteva non sapere. E Bossi? E Bossi probabilmente anche lui, anzi sicuramente anche lui. Sono dei bravi leader politici, dei leader che non si accorgono di una cosa del genere, secondo lei? Ci sono tanti. Che orgoglio è l'orgoglio di un partito che non si accorge di cose così gradanti al suo interno? Può succedere purtroppo quando uno si occupa della politica può essere distratto su questi aspetti. Distratto. Ma noi come popolo romagnolo siamo orgogliosi della nostra cultura e tradizione. Che è quella di comprare le macchine e i soldi del partito? Ma guarda, diciamo guarda i tuoi amici e compagni. Quante macchine hanno compagni? Stai tranquillo, di che facciano come noi che facciamo pulizia. Siccome questa gente onesta è venuta qua a dire che noi crediamo nella Lega... No, questa gente è venuta per dire quello che le dico io, che ci vuole una Lega coi coglioni, che spacca il culo alle merde di Roma e a quelli che ci hanno riempiti, gli islamici, che hanno rubato e che ci hanno messi nella merda. Gli islamici? Guardi cosa succede alla Borsa di Milano e chi ha creato il deficit pubblico italiano? Le merde di Roma. Le merde di Roma. Combattere contro le merde di Roma e i loro servi. Gli slogan contro Roma ladrona uniscono sempre, ma le divisioni stavolta si vedono ad occhio nudo. È invenzione, boss. Cosa? È invenzione. È invenzione? Beh, certo, l'era bossiana è finita. Che dice lei? Dopo vediamo se arriva. Speriamo. No? Crede ancora in Bossi, signora? Ma certo! Fino alla morte! Fino alla morte! Cioè, quella persona lì, vede che c'ha scritto? I triumviri, cioè Calderoli. Voi dove eravate? Cioè, potevano non sapere, Maroni, Calderoli. Ma quello non è dei nostri, eh? Lo vedi lontano un chilometro. Sai la cricca intorno? Ma cosa stai dicendo? Sono qui a spiegare l'orgoglio. Dov'erano? Dormivano. E mi spiegano? Dormivano. Cioè, lei dice, Maroni, Calderoli, Adellano? A casa mia, se mio figlio fa una cosa del genere, lo prendo calci nel culo la prima volta che lo fa, non quando lo scoprono. Eppure, quando la folla finisce di riempire il salone, si capisce che i colpevoli sono già stati individuati. E la sanzione anche. 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 Abbossi e Maroni in Padania e quei quattro coglioni in Tanzania. Chi sono questi quattro coglioni? Cioè, Renzo? Sì. Renzo, Rosimauro. Poi? Dai che li sai. Dai che li sai. Dai che li sai. Per la folla, Rosimauro, probabilmente Reguzzoni, e a seguire gli altri esponenti del cosiddetto cerchio magico, devono essere mandati via. Regia, 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 Regia. A un certo punto si spegnono le luci e la regia della serata manda sul maxischermo un comizio di repertorio per scaldare la platea. E poi, all'improvviso, si materializza sul palco proprio lui, Umberto Bossi. La folla lo acclama. Borsi, 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 Borsi. Ma poi scandisce un altro nome. Calderoli, 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 Calderoli. Ci sono sul palco anche gli altri due membri del triunvirato, Calderoli e Ladallado. Ma, e anche questo ha un significato, parla solo lui. Sono giorni di dolore, ma sono giorni anche di rabbia. Per l'umiliazione che abbiamo subito, per l'onda che abbiamo subito, di essere considerati un partito di corrotti. E mentre Maroni parla, Bossi fa su e giù come un leone in gabbia e poi, alla fine, accetta il suo nuovo ruolo e si siede, aspettando il passo più duro di tutti, quello che riguarda suo figlio Renzo. Renzo Bossi ha seguito il suo esempio. Un gesto di attenzione. I leghisti brandiscono le scope, ma non è solo una questione di polizia. Questa è la fine di una guerra di successione tra Renzo Bossi, il figlio del capo, e Bobo Maroni, il suo erede politico. Quando Bossi va al microfono, è costretto a parlare della sua famiglia. Addirittura, nel caso di giornale, che te voglia fare la casa delle tue ragioni. Che sei la scuola, non fare la casa delle tue ragioni. Umberto Bossi, per la prima volta nella sua vita politica, viene sul vissato dei fischi del suo stesso popolo. Anche per i miei figli, mi ho rovinato io, facendo entrare da lei. Dovevo fare come fa, come ha fatto a me lo scuola. I figli mi hanno andato a studiare all'est, lontano. E di questo, di questo, c'è anche il cuore per me. Il Maroni, ascolta le scuse, con la scopa in mano. I parenti, i primi, i secondi gradi, come nemmeno, non devono poter lavorare, e le leggi altrimenti. Alla fine Bossi pronuncia la parola che sottovoce i suoi fedelissimi ripetono da mesi. Complotto. Avrete capito bene che il meccanismo è una specie di complotto, al dito, al momento opportuno. E quando la tensione si scioglie, cominciano i baci. Si baciano tutti, qualche giorno c'è l'altro dito. Bacio di Giuda. Lei stima Rosimauro Bossi? Sì, ha sempre lavorato molto e bello. Adesso, solo che, è rimasta vittima di una cosa in cui lei non ha commesso niente. Però, la gente, in questo momento, vuole un rinnovamento. Come se questa cosa ne approfitta per rinnovare. Lei lo sapeva di Renzo Bossi delle macchine? Di suo figlio delle macchine, lo sapeva lei? Lo sapeva di suo figlio delle macchine? Ma poi si sapeva. Quindi chi lo fa il complotto? Belsito parlava perché sapeva che l'ascoltavano, secondo lei. Ma ha mosso da chi? C'è uno che è legato a me, come mai? I servizi non gli è andato. I servizi segreti, dice? Quindi non è Maroni che ha mosso il complotto, non lo vede come un Giuda. Lei è il fondatore di un movimento importante, oggi è il più antico partito italiano. Come si è sentito in questi giorni? Vorrei capire umanamente. Le sanguine al cuore? Ha guardato suo figlio negli occhi? Dicevo che l'ho nominato io, concedendo gli di entrare nella Lega. Quando si è messo in lista, a Brescia, volevo a tutti i costi, entrare nella Lega per darmi una mano. Però quando sei troppo giovane è facile, è facile cadere nelle trappole. Mi dispiace di aver dedicato. Mettere un po' anche la Lega, un po' troppo bambano. Perchetto. Grazie a tutti.